Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Eh, quello è il mio slungo. Ma io pensavo che fosse finito il videogioco! Ma stai a ciucca, ma chi è? No, regà, che è sta merda? Perché posso prendere dei tape? Devi ciucciare tutte ste casse... Sì, no! Sì, no! Oh, no! Ah ma guarda ma sono... No, ho capito che odi il marsal all'uovo. È un modo strano per essere ubriachi, ciao! Un clap per i ragazzi che hanno avuto questa fantastica idea creando uno dei content più belli di sempre. Scusate ragazzi E uno si para sempre il culo in un certo senso Il bro ci spoilerà la sua decisione per il 25 settembre Scusate ragazzi anni e mezzo con il maestro adriano ragneri me sta a chiamare un anno sotto la guida del maestro angelo cardinali guarda guarda ne parli e spawna ne parli stallilli con il colino capo soltante si capote se se mese li metteva in quinta fila capo no si non smette più lo smette più le fatigli di lindini con il suo 94 di corsa sulla fascia insieme adaghi mi porco di un 1600 per la puntata è il momento di dire capo se ne batti sto bonus ehi è così caldo quest'oggi avrò un caramel ciplappuccino ma tua madre è una troia veramente slab ragazzi mortacci tua ehi mi scusi si potrebbe mettere dei vestiti addosso e non fare queste sceneggiate ehi amica marco passagli le richieste di sbanna hanno fatto la sirenetta come l'hanno fatta stasera per questo è sofia fiorelli non male la nuova skin della sirenetta motivo se quella striscia era aperta c'è stava qualcosa non direi si deprende ed è da così tranquilli ci famo tutto il girettino e poi ritornano al centro a capo l'ho perso come fatta a perdere vado a due all'ora te vedo te vedo te vedo gg ok questa parte l'avevo fatta tutta sta particolare l'avevo fatta adesso direi tipo l'anda qua ci fanno tutto tutto così si ma si cioè qua bisogna un attimo che te svegli devi fare il latte a pezzo di merda saluta ma che merda ma che fai sul serio fai Verstappen ma che cazzo sto fai no zi no 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 eeees giamo scaldalo sulla lampadina tamblu sdrogo tamblu è il goblino c'è la c'è la c'è la c'è la la coda ficcata dentro per me gli ho dato 4 piocca sta sta slot art oddio è pazza mettici in white d grazie 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 Ma! Già, se vuoi, c'è sta anche grossa prima partita in eccellenza di Off Samuel. Chi gli ha mandato questa cosa? Chi è che ha fatto il mio santino e gliel'ha girato a... Guardalo, 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 Gasperini. Guarda Gasperini che ride dietro. Guarda, guarda, guarda Pess, il fascista. Guarda Z.V. Jackson, gemello di... Gemello del... gemello di uomo greco. GENIE WHEINAL DOOM! GENIE WHEINAL DOOM! Mostrate i muscoli! GENIE WHEINAL DOOM! Mostrate i muscoli! Il fenomeno! GENIE WHEINAL DOOM! GENIE WHEINAL DOOM! Ma pensavo che era finito il gioco! Porco Dio! Ma chi è quella... Porco Dio! Eh, mo' lo becco qua a sinistra. No, ovviamente non ti vuole. Si, già ma scappa. L'abbiamo! Destra, destra, destra! Dai, fai dritto, 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 dritto. Ehi, sta preso. Ma come fa a correre così? Non puoi... Regà, è impossibile. È difficilissimo. Cioè, veramente. C'era un coso rotondo. Però non c'è la clippa comunque. Tutto questo. Mi sembra che sarà il futuro della nostra alimentazione. Gli insetti. Chi? Gli insetti. Mamma mia. Non lo so, ma, cioè, gli insetti è difficile. Cioè, come fai a... Perché questi sono essiccati. Come fai a essicca a Napoletano? È complicato. Che mando... Due picche bollenti della Fiorini. Azzizzi. No! 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 Sei rifucillato, regà! Siamo vivi! Siamo vivi! Nezac va... Minore. No, ragazzi, non l'ho ben capito. Ma? Ma la retofa non è quella delle iene. Ma perché c'è un geyser? Ragazzi, ma... Ma non è quella delle iene. È quella, è quella del cancro. Ah, ok. Ma perché? Scusa, ma perché c'è un geyser? Ma secondo me... Era una giornalista, no? Era una giornalista, e lei è... Secondo me...